Siamo concisi. Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, io parlerò soprattutto dell'anatomia dell'arte inferiore, penso che poi invece Andrea Soldati parlerà di qualcosina dell'arto superiore. Vero Andrea? Perfetto. Allora, l'anatomia parliamo diciamo da sempre, vediamo i primi trattati di anatomia già dal 1300, poi passando per Vesaglio, Da Vinci e così via. Come diceva adesso Lucio, quando si parla di anatomia ai congressi di solito si fa questo effetto qua, effetto soporifero, no? Quindi per evitare questo cerchiamo di essere concisi e in qualche modo con una carrellata di immagini che almeno sono un po' accattivanti. Parlando di ginocchio, ecco, il ginocchio è composto principalmente da un manicotto di tessuti molli, quindi come vedete nel preparato anatomico, muscoli e legamenti, e poi da una struttura ossea. Per quanto riguarda i muscoli, ovviamente abbiamo il muscolo principale dell'apparato estensore del ginocchio, che è il quadricipite, formato dalle sue quattro componenti, quindi il retto femorale, vasto mediale, vasto intermedio e vasto laterale. Quadricipite che riveste un ruolo di importanza fondamentale anche come stabilizzatore dinamico di quella che è l'articolazione patello-femorale. Articolazione patello-femorale la cui stabilizzazione, diciamo, deriva anche da strutture anatomiche, quindi l'importanza del condilo femorale laterale, infatti per dire un'ipoplasia dello stesso può creare, diciamo, delle sublussazioni della rotula e quindi dei movimenti lussanti, e poi stabilizzatore di tipo statico, come adesso va molto in voga, quello che è il legamento patello-femorale mediale piace molto e anche, diciamo, la sua ricostruzione di grande attualità. Componenti muscolari sempre, gli hamstrings, quindi il bicipite femorale, in particolar modo il suo componente laterale, e poi tutti quelli che si inseriscono a livello della zampa d'oca, quindi il muscolo sartorio, grassile, semitendianoso e semimembranoso, tutti i muscoli che insieme vanno a contribuire al movimento di flessione invece del ginocchio, a differenza del quadricipite, e al movimento di rotazione interna ed esterna della tibia. Venendo alla loggia posteriore, abbiamo invece il muscolo gastrocnemio, che qua vedete ribaltato, il tendine del muscolo popliteo, e la bandelletta iliotibiale. Queste componenti muscolari contribuiscono anch'esse, diciamo, insieme ai muscoli visti precedentemente, alla flessione del ginocchio, e però soprattutto alla rotazione esterna della tibia. sempre collocati, diciamo, all'interno dei tessuti molli, di quel manicotto che abbiamo visto prima, e soprattutto nella loggia posteriore, abbiamo poi i nostri amici, barra nemici, nel senso che dobbiamo sempre stare attenti, arterie, vene, vasi linfatici e nervi. Vediamo qua dei preparati anatomici, che ci fanno vedere come, per dire, l'arteria poplitea, e come una ricostruzione anatomica in cui si vede che le arterie principali e vene principali inviano poi delle collaterali, sia in senso mediale che in senso laterale, al torno al ginocchio, che vanno più o meno ad unirsi, a creare un intreccio a livello della linea mediana anteriore. Venendo alla parte legamentosa, quindi legamenti che uniscono le due ossa principali dell'articolazione del ginocchio, femore e tibia, due crociati, quindi crociato anteriore in senso medio-laterale, crociato posteriore subito di dietro in senso latero-mediale, e i due collaterali, collaterale esterno e collaterale interno. Crociato anteriore, funzione principale, funzione principale è il limitatore della traslazione in senso anteriore della tibia, soprattutto a 30 gradi, questi da studi di biomeccanica. Altro effetto principale è quello di impedire la sublusazione mediale della tibia in estensione completa. è il principale responsabile diciamo della limitazione dell'intrarotazione tibiale interna. Legamento crociato posteriore, molto bello questo preparato anatomico, funzione principale invece è quella di impedire diciamo la traslazione posteriore della tibia, in particolar modo ha un'angolazione di 90 gradi. In secondo luogo è anche responsabile diciamo di limitare la extra rotazione tibiale. Un po' più avanti per quello che ci voleva il computer contribuisce diciamo insieme al crociato anteriore a quella che è la traslazione tibiale anteriore. Collaterale esterno invece al contrario ovviamente impedisce diciamo e limita le forze di stress invaro, limita l'extrarotazione tibiale e come funzione secondaria limita un pochettino quella che è la traslazione in senso anteroposteriore della tibia. Infatti molto importante anche diciamo le lesioni del punto d'angolo postero esterno nelle instabilità complesse. a cosa servono quindi i legamenti si me lo riprendo che è carino cosa servono quindi i legamenti hanno una funzione multipla un ruolo multiplo nella diciamo articolazione sana e ogni legamento diciamo è responsabile della limitazione del movimento in più di una singola direzione come vediamo per dire nelle immagini in questo movimento qua ovviamente i legamenti hanno più di una funzione nell'impedire diciamo la dotazione. Per quanto riguarda invece la biomeccanica del ginocchio vari studi ormai validati sia con tecnico computerizzati in vivo in vitro quello che volete si è visto che ovviamente la forma dei condili più o meno è circolare e ne scaturisce da questo diciamo quello che è il movimento principale del ginocchio e deriva da una combinazione di movimenti di traslazione e rotazione che sono mediate dalle forze dovute ai legamenti dal contatto dalle forze di contatto tra le superfici articolari dai carichi applicati esternamente all'articolazione e dall'attività della muscolatura in senso dinamico. Biomeccanica anche questa non come l'anatomia comunque la studiamo da tempo in memore si partiva dal concetto principale del modello bidimensionale del forberlink cioè dell'incrocio tra i crociati quindi che formavano questa croce e il movimento che determinava il cosiddetto posterior rollback però questo qua è limitante diciamo il movimento del posterior rollback e il forberlink per spiegare quella che è la complessità del ginocchio perché il ginocchio di per sé non è una semplice cerniera ma molto di più infatti se noi andiamo a vedere studi di biomeccanica il solo rollback se ci fosse solo un rotolamento noi avremmo una dislocazione posteriore del femore come se avessimo solo uno scivolamento ci sarebbe una limitazione in quello che è l'arco di movimento in flessione quindi cosa abbiamo noi una cosa molto più complessa cioè un rotolamento associato a uno scivolamento che invece conferiscono all'articolazione del ginocchio grande stabilità e soprattutto un'ottimizzazione della flessione venendo quindi in ultimo a quelli che sono i sei gradi di libertà del ginocchio che si muove quindi in flessa estensione in abduzione adduzione in intrarotazione e in extrarotazione venendo all'anca anche qua abbiamo le solite cose del ginocchio quindi lo scheletro muscoli fascia vasi nervi e l'articolazione per quanto riguarda lo scheletro reperiossi molto importanti soprattutto anche nella pratica punti infiltrativa che sono le relazioni con i tessuti moli grande troccantere spina iliac antero superiore sinfisi pubica creste iliaca spine iliaca postero superiore e l'ischio muscoli li dividiamo in uno strato superficiale strato profondo e strato anteriore muscoli dello strato superficiale abbiamo in primo luogo il tensore della fascia lata poi abbiamo il grande gluteo e il sartorio strato intermedio possiamo identificare invece il medio gluteo muscoli invece dello strato profondo posteriore e poi laterale posteriore abbiamo principalmente ovviamente gli extrarotatori dell'anca quindi il piriforme in primo luogo l'otturatore interno ed esterno il gemello superiore e inferiore e poi il quadrato come muscolo invece principale laterale che qui vediamo sezionato quindi non lo vediamo un po' diciamo ribaltato il piccolo gluteo strato invece profondo però in senso anteriore quadriciore retto femorale e iliofsoas e andando più medialmente invece tutto il comparto degli adduttori quindi l'adduttore grande l'adduttore lungo l'adduttore breve e il muscolo gracile anche qui strutture vascolari strutture vascolari anteriori e poi posteriori strutture vascolari anteriori principali ecco vediamo qua il plesso vascolo nervoso quindi in ordine in senso latero mediale nervo femorale arteria femorale comune vena femorale e poi ovviamente tutto il plesso diciamo che va a vascolarizzare la testa femorale quindi con le vasi circonflessi mediali e laterali importante ovviamente il nervo femorocutaneo laterale questo soprattutto nella pratica chirurgica strutture neovascolari invece diciamo posterolaterali vasi e nervi glutei superiori vasi e nervi glutei inferiori il nervo sciatico molto ben rappresentato e il nervo pudendo l'articolazione dell'anca e quindi un'articolazione sinoviale quindi in ordine artrosi possiamo identificare una cavità articolare una cartilagine articolare una membrana sinoviale e una capsula legamentosa che vedremo molto robusta si comporta come una inartrosi quindi caratterizzata da elementi fondamentali la sfericità e il movimento su più assi cartilagine similunare questa qua fossa cetaveolare o pulvina al centro legamento rotondo qui verrà presentato con all'interno l'arteriola della fovea legamento trasverso e poi il labrum orientamento dell'acetavolo e l'orientamento formulare non ci soffermiamo troppo articolazione dell'anca è un'articolazione di elevate stabilità intrinseca e come raggiungiamo questa elevata stabilità intrinseca da un complesso intricato sistema di legamenti capsulari quali sono fondamentalmente e brevemente il legamento iliofemorale o ad y o legamento del bigalo i legamenti ischiofemorali e il legamento pubofemorale vediamo qua anche un preparato diciamo anatomico con anche varie vie di accesso diciamo artroscopiche che ci fanno vedere dove si inseriscono diciamo queste componenti legamentose di rinforzo alla capsula quindi legamenti ischiofemorali iliofemorali e pubofemorali venendo invece all'articolazione della caviglia e piede tantissimi tipi di articolazioni la tibiotarsica la caviglia detta vera e propria la sottastragalica quindi l'articolazione tra stragalo e calcagno la mediotarsica o quindi o calcagno cuboidea stragalo scafoidea o articolazione dello chopard le tarso metatarsiche quindi la cosiddetta lisfrank le metatarsofalangee interfalangee e poi tante altre che anche se conferiscono diciamo meno mobilità scafo cuneiformi scafo cuboidee cuneo cuboidee e via dicendo brevemente il piede come si muove tre piani di movimento principali movimenti su un unico piano flessione plantare e flessione dorsale movimento in inversione e diversione movimento in adduzione e movimento in abduzione ognuno di questi movimenti si articola su una delle strutture anatomiche che avevamo visto precedentemente adesso le andremo ad analizzare poi abbiamo invece movimenti multiplanari come quindi che si eseguono su più piani come la pronazione e la supinazione questa articolazione tibiotarsica modellino bellino che ci fa vedere quello che è il mortaio diciamo tra la tibia e la pinza magliolare e il perone e la stragalo che si articola col suo domo allora a livello dell'articolazione tibiotarsica si esegue il movimento di flessione plantare o dorsale un movimento sul piano saggitale quindi flessione plantare l'avampiede si allontana dalla gamba flessione dorsale invece l'avampiede si avvicina alla gamba escursione range articolare normale all'intirica di 50 gradi per la flessione plantare di circa 20 gradi invece per la flessione dorsale sotto a stragalica questo di nuovo ritorniamo all'atomia per vedere l'importanza diciamo delle faccette articolari del calcagno che è una faccetta articolare anteriore una media una posteriore con cui si articola superiormente l'astragalo sulla articolazione sottastagralica si compie il movimento sul piano frontale che è quello di inversione ed eversione quindi inversione pianta ruota all'interno e inversione pianta ruota all'esterno reescursione normale di 5 gradi sia per l'inversione che l'eversione articolazione medio-tarsica quindi calcaneo cuboidea e astragalo scafoidea su questa articolazione si esegue invece principalmente un movimento di adduzione e abduzione movimento sul piano trasversale adduzione avampiede devia medialmente adduzione abduzione invece devia lateralmente adduzione per circa 20 gradi invece abduzione per circa 10 gradi ad ultimo vediamo i legamenti principali che stabilizzano l'articolazione tibiotarsica due comparti uno laterale e uno mediale per quanto riguarda i legamenti laterali della tibiotarsica i più importanti ovviamente il peroneo stragalico anteriore il peroneo calcaneare e il peroneo stragalico posteriore che è quasi orizzontale trapezoide a differenza degli altri legamenti invece mediali principali è il legamento deltoideo che è una struttura triangolare si vedeva bene qua eccolo una struttura triangolare si divide in una parte superficiale una parte profonda senza stare a dilungarmi perché qua ci stiamo addormentando e poi abbiamo tutto il meccanismo complesso di legamenti tra la stragola e il calcagno tra stragola e il calcagno e il scafoide in conclusione quello che potevamo risolvere tutta la relazione con questo quello che diceva Ruffini c'è la forma e l'immagine plastica della funzione c'è la funzione deriva tutto dall'anatomia e non c'è anatomia senza funzione grazie per la tua grazie per la tua grazie per la tua grazie per la tua grazie per la tua